Brutta, brutta notizia per il Milan e per il calcio italiano. Infatti, secondo quanto riporta l'Ansa e poi ben riportato da Calcefinanza, sarebbe saltata la proroga per il decreto crescita. C'è stata ieri un'accesa discussione nel Consiglio dei Ministri e da quanto risulta l'Ansa, quindi subito dopo le prime notizie che traperano, sarebbe saltata la proroga delle agevolazioni fiscali fino al 29 febbraio. Quindi dal primo gennaio, addio ai benefici per i rinnovi e tutti i nuovi contratti. Questo è quanto riporta Calciofinanza. Quindi il Milan, che lo sappiamo, che ha beneficiato spesso negli ultimi anni di questo decreto, di queste agevolazioni per andare ad acquistare nuove e giovani promesse in giro per il mondo, ora potrà andare sì su questi calciatori, ma le cifre, i rinnovi dei nuovi contratti, l'acquisto dei nuovi contratti saranno sicuramente più onerosi. E secondo appunto quanto riporta l'Ansa, la misura contenuta a prime voze del decreto mille proroghe che prorogava gli sconti fiscali per gli sportivi professionisti, a partire dai calciatori in arrivo dall'estero, è stata annullata e non è stata prorogata. Come tanti club si aspettavano, infatti c'è stata già una reazione rabbiosa, questa congiunta di tutti i club che hanno manifestato al Consiglio dei Ministri, al Governo italiano, le loro perplessità sull'intero sistema. Il sistema che, sappiamo tutti, ha già dei deficit, è un sistema già indietro economicamente rispetto ad altri paesi e che sfruttava questo decreto crescita come un sistema di appeal, un qualcosa che permetteva una crescita, tant'è che Milan, Inter e Napoli comunque l'anno scorso sono andate molto avanti in Champions League. E quindi questo sistema che verrà abolito, questa proroga, queste agevolazioni, sicuramente condizioneranno la crescita del sistema italiano. A quanto spiegano le stesse fonti, dopo un'accesa discussione, continuo l'articolo, nel Consiglio dei Ministri è saltata la proroga il 29 febbraio, quindi resterà la stretta che scatterà a partire dal 1 gennaio 2024, introdotta con uno dei decreti legislativi attuativi della Delega Fiscale. L'abolizione non sarà comunque retroattiva e chi ha sottoscritto un contratto che permette di usufruire di quei benefici fiscali potrà continuare a farlo per un massimo di 5 anni, come di regola. Quindi è una notizia che questa abolizione, di questo decreto, di queste agevolazioni non sono retroattive, quindi in Milan, che ha sottoscritto un rinnovo con Rafale A, un Milan che ha sottoscritto un rinnovo con Ternandez, sicuramente non vede pregiudicare i conti, quindi rimangono queste le cifre, le cifre del decreto che appunto favoriva l'arrivo di calciatori professionisti dall'estero. Però qual è il problema? Anche gli eventuali rinnovi continueranno a godere dei benefici se sottoscritti entro il prossimo 31 dicembre, mentre per tutti quelli successivi a tale data e per i nuovi contratti gli sgravi non saranno più applicabili. Quindi eventualmente il Milan, se volesse rinnovare a Magnan, avrebbe solamente due giorni per chiudere la trattativa, per far sì che benefici dei decreto crescita. Notizia tosta, difficile, impossibile in due giorni chiudere il contratto a Raffaele A, a Magnan, a blindare un portiere come Mike Magnan. E sicuramente questo condizionerà il mercato, le strategie di mercato del Milan, ma di tutti gli altri club. Club come la Juve, che ha preso diversi giocatori col decreto crescita, club come l'Inter, che è riuscito a portare a casa Thuram, con uno sgravo fiscale importante, sono fattori che condizioneranno la competitività del sistema italiano. Quello sicuramente sì. Quindi un futuro, un sistema italiano già fragile, già debole, che non viene sostenuto dal governo italiano, né nella costruzione di nuovi stadi, dove molto spesso la politica mette i bastoni fra le ruote, non viene in qualche modo incentivato con questi sgravi fiscali, con queste normative, con un sistema di telecomunicazioni legate al mondo del calcio ancora obsoleto, con lotte interne tra Dazon, Sky, tutti i vari, possiamo dire, provider, con tutti i fornitori di eventi sportivi. E quindi un sistema italiano che farà fatica, farà fatica se non ci saranno nuove normative, non ci sarà un'apertura e cambiamento da parte di chi è il leader del nostro paese, del nostro governo, che deve in qualche modo capire, comprendere come lo sport, e in particolare il calcio, sia uno dei motori, sia uno dei fattori di crescita del nostro lavoro, fattore anche di lavoro del nostro paese. Peccato, occasione, ennesima occasione persa per il nostro calcio. Speriamo che ci sia presto una nuova normativa, che ci siano nuove leggi che favoriscano lo sviluppo, perché così si fa sempre, sempre più dura. Fatemi sapere, amici, di Rubrica Rosso Nera cosa ne pensate, come sempre cliccate like, iscrivetevi al canale YouTube di Rubrica Rosso Nera. Grazie. Grazie.